Vi ringrazio per queste belle parole, come ho sempre detto ho pensato ad andare in campo, ci sono state tante voci, io dai primi giorni che sono venute fuori queste voci in Napoli ho sempre detto che per me essere accostata a una società così importante come Napoli è un motivo d'orgoglio, però detto questo non so altro, anche perché io ho ancora da finire un campionato con l'Empoli, abbiamo ancora una giornata, so che il mio procuratore siamo la società dell'Empoli, magari ogni tanto si confrontano riguardo al mio futuro però di concreto io personalmente non so nulla, poi è ovvio che ogni giocatore quando viene accostato come ho detto a una società importante, a una piazza come Napoli ne vado fiero e ne sono orgoglioso, però di concreto non c'è nulla.